Ragazzi, devo darvi una brutta notizia. Ricordate il giapponese intervistato che dice Ah, sono giapponese. Lui non dice sono giapponese. Alla domanda, cosa chiede a San Gennaro? Lui dice, assumi giapponese. Perché io voglio una. Io vi ho trovato poche fatiche. Cosa chiede a San Gennaro? Ah, sono giapponese. Ah, sono giapponese. Ah, sono giapponese. Molte persone non dormiranno stanotte. Ah, sono giapponese. Ah, sono giapponese.